Entrate nell'anello, io chiederò con le mie mani Qui c'è un'opat, fammi con me C'è qualcuno laggiù? Credo nel padre di tutti Siamo fuori dall'anello, certo non potranno ucciderti se siete già morti La mia prossima vittima è laggiù C'è una nullità qui Capsule assistenza in arrivo Capsule assistenza in arrivo Nemico laggiù Da questa parte, ora Qui c'è un R-99 Lasciate pari a me Sto controllando i dintorni Mi stanno sparando Sto controllando i dintorni Ti aiuto io Grazie, vi devo un favore Faccio una pausa Devo darmi una sistemata Qui c'è un caricatore leggero esteso Livello 3 Faccio una pausa Devo darmi una sistemata Devo darmi una sistemata Attenzione, il livello di uccisione è stato eliminato Qui c'è un caricatore pesante esteso Livello 2 Potrebbe esserci qualcosa da questa parte Qui c'è un esteso Qui ci sono munizioni pesanti La fortuna aiuta Qui c'è una cella a scudo Mi sono presa qualche secondo per curarmi Qui c'è una cella a scudo Ora non pensare che io ti debba un favore Sto controllando i dintorni Qui c'è uno scudo Evo Livello 1 Le ho bisogno Un minuto L'anello è vicino Attenzione, c'è un nuovo leader uccisione Attenzione al nuovo leader uccisione 45 secondi L'anello è vicino Controlliamo quest'area L'anello è vicino Livello è vicino 30 secondi Qui c'è una cella a scudo Qui c'è un calcio standard Livello 2 C'è un'unità laggiù Controlliamo quella zona Capsula assistenza in arrivo Eliminato Qui c'è uno scudo Evo Livello 1 Qui c'è un OPAP Castello Siamo molto distanti Guardate le mappe Diamo un'occhiata qui Non importa Round 3 Inizio controllo Rovescio Anello Non siamo tutti nell'anello Lì ci attende la vittoria Contatto Potrebbe esserci qualcosa da questa parte Andiamo da questa parte Attenzione Il campione è stato eliminato Qui c'è un caricatore leggero e steso Livello 3 Qui c'è un kit medico Versaglio laggiù Qui c'è una batteria Qui c'è un kit medico Attenzione Nuovo leader uccisioni Ti paro chiudere il becco Qui c'è un caricatore leggero e steso Livello 2 Attaccherò i nemici laggiù Leader uccisioni Eliminato Ancora due squadre nemiche Uccidiamo e prendiamoci la vittoria Nuovo leader uccisioni Trasfaviti nel passato dell'unità Ho stabilito un contatto con il nemico Apre il fuoco Sono scoperto E' un'acquista 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 Sono sotto tiro Qualcuno mi aiuti subito a rialzarmi Granata frammentata Volevo tornare in battaglia Lancio Stella Ark Ti aiuto io Non aspettiamo Ricarico gli scuri Mi prendo qualche secondo per ricaricare gli scuri Padre di tutti gli dèi Concedimi la vista Sono sotto tiro Dentro l'anello Vincherò Vincherò Sono sotto tiro Ricarico gli scuri Il banner di uno dei nostri fratelli Deve essere nostro Dobbiamo riprendere il banner del caduto Mi prendo qualche secondo per ricaricare gli scuri Mi prendo qualche Mi prendo qualche Sì Sì ho eliminato ottimo lavoro rimane una squadra granata mi prendo qualche secondo per ricaricare gli scubi mi prendo qualche secondo per ricaricare gli scubi i miei nemici mi troveranno all'interno sto controllando l'area sto invocando le forze sarò degna del titolo di siete i campioni apex mi prendo qualche sui 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 su